Il Consiglio dei Ministri ha approvato un primo blocco di misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid e le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all'estensione del Green Pass rafforzato che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale La Guarigione e le quarantene per i vaccinati. Dal 10 gennaio fino alla cessazione dello stato di emergenza si amplia l'uso del Green Pass. Novità anche per quanto riguarda la quarantena, zeramento per contatti stretti che sono vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi se asintomatici. Non è più prevista la quarantena ma una forma di autosorveglianza. Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso c'è però l'obbligo di indossare la mascherina FFP2. Inoltre se dovessero comparire i sintomi scatta anche la prescrizione di effettuare un tampone antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultima esposizione al caso. Una norma che accoglie la proposta delle regioni che hanno chiesto di esentare dalla quarantena che ha fatto il booster. Ma per il governatore della Campania Vincenzo De Luca le nuove misure adottate dal governo sono al di sotto del necessario, anzi puntano a creare solo una confusione indescrivibile, ingestibile e incontrollabile. Si prosegue sulla linea delle mezze misure e del tempo perso. Al di là delle misure relativi a tamponi e tempi di quarantena che prendono atto della realtà di fatto, le misure del governo per l'emergenza Covid appaiono del tutto insufficienti. In un periodo in cui i contagi si moltiplicano da un giorno all'altro le nuove regole sono solo tardive. Dopo un analogo atteggiamento a fine novembre anche oggi si decide di rendere esecutivi i provvedimenti fra 15 giorni. È proprio inevitabile questa irresponsabile perdita di tempo? È la domanda che si presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Dal punto di vista della Campania la regione ha più alta densità abitativa e perciò ha più alto rischio. Non si riscontrano decisioni utili e ragionevoli per frenare il contagio senza penalizzare né vaccinati né l'economia. È indispensabile decidere subito l'obbligatorietà della vaccinazione o comunque un lockdown per i Novaks lungo, serio e controllato. È vero che l'enorme crescita dei positivi non si traduce automaticamente in ricoveri ospedalieri ma c'è un punto limite oltre il quale la quantità di contagi può portare al collasso degli ospedali. Già registriamo questa tendenza soprattutto perché il personale a disposizione è inferiore a quello di un anno fa. Ricordo che un anno fa per fronteggiare l'emergenza si decisero chiusure drammatiche di reparti ordinari e questa è la prospettiva che dobbiamo scongiurare oggi, conclude il governatore Vincenzo De Luca.